Scriñar Vanellà Va dentro da Lukaku che la protegge Contra la tira a Udero Due volte per metterla in angolo Cento secondi Primo squillo di Big Rom Vicky Tarjan Ha respinto il primo tentativo Ancora l'Armeno Cialanoglu Si costruisce la conclusione Che fischia lato di pochissimo Flash del Turco Cialanoglu Darmian La cicca Lautaro Ma non è finita C'è ancora Barella che alimenta In area di rigore Tocco corto per Darmian Controllo e destro La ricerca dell'incrocio Giuricic Ha tolta via Darmian Trova anche il corridoio Dentro per Lammers Gabbiadini Prova ad accarezzarla Palla a lato Ecco il cross Tagliato dentro Gabbiadini La schiaccia sul fondo Che brivido per l'Inter Palla uscita di pochissimo Di Marco Rimasto sul lato Dzeko Che dipinge il cross Dentro Cialanoglu La raccoglie Deveva calciare La inchioda lì Audero Mkhitaryan Sterza davanti a Wings Cialanoglu Chiamano 1-2 Chiamano 1-2 Con Dzeko Destro A giro Pallone di una spanna Sul fondo Che brivido per la Samp Uno degli ultimi assalti Carboni La reclama a Cerbi Prepara la conclusione Audero Sulla traversa Dopo aver fatto un gran volo Notte stregata Per l'Inter Ci ha provato anche a Cerbi Nel recupero Ultima preghiera Pallone verso Dzeko Di Marco Tocco corto Per Lautaro La finta di corpo Lautaro Non trova lo spazio Per calciare Poi commette fallo Altra Shasperi Nerazzurri Finisce qui Amarassi È 0-0 Grazie a tutti